Siamo fuori dall'arena Bookstock dove si è appena tenuto un incontro molto partecipato pieno di giovani su miti e fake news del mondo scientifico. Siamo qua con Dario Bressanini, che cosa è successo, di cosa hai parlato, cosa hai raccontato ai ragazzi? Abbiamo raccontato io, Alessandro, c'era anche Beatrice Mautino, un po' il contenuto dei nostri libri che anche se trattando argomenti diversi, cioè la cosmetica, la pulizia, io mi occupo, sono un chimico, mi occupo della scienza delle pulizie e lui è un microbiologo, si è occupato di quelle cose piccole che noi non vediamo anche che possono farci male, quindi abbiamo cercato di spiegare un po', di sfatare un po' di miti e leggende, io raccontando che il bicarbonato non disinfetta, cose della vita di tutti i giorni che appunto si continuano a sentire e si continuano a propagare anche se sono false. E tu Alessandro invece? Sì, di fatto abbiamo parlato appunto di questo, di argomenti banali tipo non mangiate i virus al crudi perché possono contenere batteri anche importanti, patogeni anche seri come la listeria, però sono cose che si fanno, si fanno perché di fatto la gente appunto, quello che dice è non è mai morto nessuno, che poi è il titolo del mio libro e quindi abbiamo presentato il libro. Non è mai morto nessuno. Che aree respirate in questo salone? Qual è l'interesse che secondo voi i giovani hanno nei riguardi delle tematiche scientifiche? L'interesse è altissimo, io lo vedo quando, qui il salone è pieno di giovani ma la cosa non mi sorprende perché sia io che Alessandro siamo sui social, TikTok, Instagram, YouTube e da sempre il pubblico che ci segue è un pubblico molto giovane, per cui non è una sorpresa per me, anche se spesso vedo che è una sorpresa per magari i librai dove andiamo a fare conferenze, andiamo a presentare i nostri libri e spesso mi hanno detto ma di solito nelle nostre presentazioni ci sono un sacco di teste bianche di anziani invece è venuto qua lei e ci sono un sacco di giovani che non abbiamo mai visto quindi è una cosa che mi fa molto piacere però non mi stupisce. Sì, anche a me non stupisce perché comunque siamo seguiti da un pubblico sia di persone adulte ma anche e soprattutto di giovani perché diciamo c'è curiosità intorno a alcuni argomenti e voglia anche di scardinare regole che fino ad oggi andavano avanti senza una base scientifica. Grazie e buon salone!